Fino al 2 settembre nella Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, è possibile visitare la mostra di arte contemporanea e irregolare Sono Altro, Sono Altrove. Le opere che voi vedete in questa sala sono una selezione di opere che erano state mostrate nel Festival dell'Outsider Art e Arte Regolare che si è tenuto nell'autunno del 2021 a Torino, che era a livello nazionale. Art e Arte Regolare, Outsider Art, Art Brut, sono tutti termini per indicare le persone che lavorano senza avere una formazione artistica, ispirandosi a proprio sentire e proprio mossi da una tensione anche insopprimibile all'espressione. Spesso sono autodidatti, persone che hanno magari iniziato a lavorare in seguito a un trauma, usando l'arte come forma di autocura. Questa installazione nello specifico nasce dopo una lunga ricerca condotta nel periodo della pandemia, del lockdown. È stata realizzata attraverso il lavoro di 70 partecipanti, operando su quelli che sono gli elementi, una foto che ci ricorda in un momento felice e un abito d'affezione. Lavorando su questo gruppo di pietre cifrate che si collegano con i ricami che sono stati realizzati dalle partecipanti, oltre che i tacquini appunto dove tutta la ricerca artistica svolta insieme si è condensata, troverete un libro magico davanti al quale potrete ovviamente formulare la vostra domanda e il vostro cosa viene prima e pescando una pietra cifrata potrete raggiungere un numero, una frase ricamata da una delle partecipanti che non conoscete ed andare attraverso questo numero a cercare il tacquino corrispondente. La mostra rimarrà aperta fino al 2 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 con ingresso gratuito.